Questo è il vulcano più piccolo del mondo, acceso da 500 anni e perfetto per una strada estiva a costo zero Proprio così, perché se cerchi il luogo più romantico d'Italia, in cima ad un monte ricoperto di margherite è situato un minuscolo vulcano che brucia ininterrottamente da 500 anni Ma questo è davvero un vulcano? In realtà è una fontana ardente, da cui fuoriescono naturalmente idrocarburi che infiammandosi illuminano ogni notte la cima del monte Busca in Emilia-Romagna Che romantico Tagga chi portare qui ad ammirare le stelle e salva Ril